Anche a Salerno si registra un importante segno più in termini di presenza nei siti culturali, con performance migliori del dato regionale e nazionale, arrivando ad un confortante più 10%. A fare la parte del Leone i siti di Velia, che ha appena incassato un finanziamento da 10 milioni di euro, e le aperture di San Pietro a Corte, soddisfatta la soprintendente Francesca Casule. Noi siamo a livello di provincia di Salerno a un 10%, quindi possiamo dirci in quella parte positiva, ampiamente positiva. Credo che ci abbia aiutato in questo, da un lato, l'incremento di visitatori di Velia, che ci auguriamo sia soltanto la spia iniziale di un lavoro grosso che stiamo mettendo in campo per Velia. Abbiamo il risultato notevolissimo di San Pietro a Corte, che non in un anno, ma in soli otto mesi, se andiamo a contare, perché è partita l'apertura sei giorni a settimana, è partita alla fine di marzo, quindi già sarebbero nove mesi, in realtà poi quasi un mese è stato chiuso per l'allestimento della mostra Salerno in particolare, quindi in realtà in otto mesi di lavoro abbiamo registrato 25.000 presenze circa. Credo che sia un risultato del quale possiamo essere molto soddisfatti.